Per noi era fondamentale dare un primo segnale dell'importanza che riveste per noi la scuola di ogni quartiere, proprio per mantenere i servizi vicini ai nostri cittadini anche nei quartieri periferici e soprattutto per dare il segnale che l'amministrazione è molto molto attenta a tutto ciò che avviene all'interno dei quartieri, quindi non solo nel centro storico. Ma questo è anche importante perché dimostra come la collaborazione aperta con le istituzioni e quindi con il provveditorato e di conseguenza con il ministero porta sempre a frutti positivi. Per fortuna, dico per fortuna, i dirigenti scolastici sono vicini a noi, vicini al provveditorato e hanno capito l'importanza di questa azione e di questo sforzo fatto sia dal provveditorato che dal comune che ovviamente mette delle risorse per poter lasciare aperta questa scuola e per dare un segnale veramente forte a tutti quelli che pensano che si possano chiudere i servizi nei quartieri periferici. L'amministrazione comunale e anche il sindaco ha sempre dichiarato che i quartieri della nostra città sono molto importanti. Ne parlo anche perché io ho anche la delega ai contratti di quartiere di Lunetta di Borgo Chiesa Nuova dove abbiamo accelerato e proprio domattina alle 9 e mezza inizieranno le demolizioni nelle ex case Aler che ormai sono libere e a fine luglio demoliremo anche la famosa piastra. Lo dico perché l'azione di questa amministrazione è stata decisiva sia nei rapporti con il ministero di infrastrutture sia nei rapporti con la regione Lombardia per poter ottenere la velocità di esecuzione di queste demolizioni troppo attese dalla cittadinanza mantovana. La soluzione immediata è una pluriclasse nel plesso di Angeli che è una pluriclasse di passaggio bisogna comprendere questo termine nel senso che per quest'anno sarà così è un anno per monitorare che cosa avviene l'anno prossimo l'anno prossimo dovrebbe accadere visto i numeri che ci sia un numero tale di alunni da poter costituire la classe normale ad Angeli e quindi continuare poi con il normale decorso prima, seconda, terza, quarta, quinta. Io però non mi concentrerei solo su questo, mi concentrerei su un altro concetto. È un accordo importante che prefigura qualcosa di più importante, l'avvio di un accordo generale sul governo della scuola e quindi sul governo del territorio, dei servizi integrati e di tutto quello che ci sta attorno. Quindi questo è un momento secondo me di particolare importanza, di particolare impegno. Per me naturalmente perché sono il produttore ma anche per l'amministrazione ci attende un lavoro non facile, un lavoro difficilissimo anche perché è facile poter innescare delle speranze che poi non possono essere mantenute. Bisogna essere molto prudenti ma nello stesso tempo bisogna avere il coraggio di decidere di andare avanti. Questo per me è importantissimo e quello che si sta facendo qui in questo comune oggi è qualcosa che precorre alcune situazioni che accadranno nel tempo. Parlo di federalismo scolastico, parlo di devoluzione, parlo di titolo quinto della Costituzione, parlo di assegnazione ai comuni per esempio della tassazione ma nello stesso tempo anche del come spendere i soldi sul territorio, di quali servizi devono fornire e così via. Noi ci stiamo mettendo su quella strada, lo stiamo facendo prudentemente ma lo stiamo facendo io credo anche con un pochino se mi è consentita la presunzione di lungimiranza.